voglio un caffè si grazie voglio un caffè un caffè si sento la macchinetta io non te lo posso fare allora dammi un bicchiere di vino un cappuccino no un bicchiere di vino non te lo puo dire non te lo puo dire un bicchiere di vino non te lo puo dire non te lo puo dire no ma io volevo un bicchiere di vino non te lo dici te e che fa sputano i bicchieri della gente abbociano tu ci vai ma come ci sia più che la macchina ammortizzata un tocio può salire ma ti slitta come tu fai un caffè no uno lo voglio un toccinaio tanto tu mi lo fai e sono stanco sono tornato ora della germania ma che è in germania c'è la guerra c'è la guerra in germania ma che è inizio ma quale è inizio Ma quale è Italia in Germania? Gli è finita la guerra? Ma è come le mosche! Ma che... ma stavano via! E dove va andare? Meglio che Baugiano! Sì, ma che scherzi! Tu lo dici te? Ma tu lo dici te? Ma che dico io? Non dico niente! Sta parlando te! In Spagna muoia come le mosche! Ma quale in Spagna muoia? Ma stanno benissimo Spagna! C'è la gente muore per la strada di Fagna! Spagna! Ma in Russia c'è Gorbaciov! Ma in Russia c'è Gorbaciov! Ed è un po' che non c'è più Gorbaciov! Ma tu lo dici te? Ma come lo dico io? E non lo dico... è vero! Non te lo puoi dire! Non te lo puoi dire se non lo sai! Ma come non lo so? Non te lo puoi dire se non lo sai! Ma te lo dici te? Non te lo puoi dire se tu lo sai te lo dici te? Ma che lo so io? A Bacarello c'è l'acqua buona! Anche a Bacarello c'è buona! C'è l'acqua buona Bacarello! Ma fammi questo caffè! Vai! Fammi andare via! Germania c'è la guerra! Ma quale guerra? C'è una guerra in Germania? Ma in Francia cosa? Ma in Francia cosa? Stanno benissimo in Francia! In Cina cosa? In Cina cosa? Ma in Cina cosa? Non ce n'è in Cina cosa? Ma come c'è in Cina? Ce ne sono un miliardo! Andai tutti via in Cina cosa? Sono tutto a Prato cinese! Ah vabbè quello è vero però! Tu ma in Cina c'è un silenzio cosa? Non c'è più nessuno! Non c'è rimasto più nessuno in Cina cosa? Sono tutto a Prato cosa? Buongiorno!